La stiamo già applicando, abbiamo atteso ovviamente questa ulteriore sentenza che ciò non toglie che la legge sia già in applicazione, le leggi abbiamo sempre rispettate. Ci spiace che qualcuno abbia voluto dipingere il Veneto come Novax perché la realtà è un'altra. Abbiamo fatto, ripeto, un ricorso per difendere un modello che era un unico in Italia, esiste da dieci anni con una legge approvata nel 2007 che prevedeva fra l'altro dei tavoli di controllo semestrali con il Ministero della Salute e prevedeva fra l'altro che scesi al di sotto una certa soglia si introducesse l'obbligo vaccinale. Ricordo che si fa una legge sull'obbligo vaccinale in un paese nel quale tutte le ragioni avevano già l'obbligo vaccinale.